a bordo io sono grinder e jeep trimmer quindi ovviamente grindo grossa parte del tempo e poi mi occupo di regolare la vela di prua che oggi era la seconda giornata di regate condizioni molto diverse rispetto a ieri in quanto c'era vento abbastanza teso e un po di ondina fastidiosa per questo ci hanno messo sul campo quello un po più lontano a riparo sotto l'isola di wake e niente speriamo che loro erano molto forti con questo tipo di condizioni però è andata bene siamo riusciti a fare due ottime partenze e poi siamo riusciti a controllarli in entrambe le regate sta bella la prima prima regata abbiamo fatto un bel bel tucking duel come bei vecchi tempi del match race e niente molto molto soddisfatti sia della performance alla barca che di come abbiamo gestito le regate le sensazioni molto buone ci sentivamo anche oggi con queste condizioni molto molto nostro agio di bolina e questo appunto ti permette di di arrivare alla boa di bolina con un vantaggio da amministrare diciamo sempre sempre bene avere quel quel marzo in più di velocità di bolina tutto questo duello di virate è sicuramente molto faticoso dobbiamo dobbiamo ricazzare le vele ogni virata e tanta fatica alla fine però se lì sai che non devi mollare un metro e la fatica in realtà la senti la senti solo la sera però appunto guadagniamo ogni virata a qualche metro e questo permesso di restare davanti il fatto di avere il fatto di avere due timonieri è uno dei nostri punti forti in queste situazioni qua quindi sicuramente in partenza abbiamo abbiamo un grosso vantaggio ci permette di essere molto più flessibili nelle varie scelte e anche in situazioni così così strette di virate ci permette comunque di portare la barca al massimo fino agli ultimi metri prima la virata e subito in uscita la virata permette di performare sempre al massimo